bello a tutti ragazzi bentornati su gp games siamo su counter strike global offensive questa è la prima partita che porto che registro ovviamente non siamo su competitive perché sono livello 2 anche se fosse livello 3 che è il livello che serve per giocare le competitive non ci andrei sicuramente perché andrei a farmi disintegrare assolutamente quindi niente giochiamo un po di questa modalità e vediamo un po il m'a sautato il fumo io non ho capito allora lui ha preso in plus t'as visto la pose o no? c'è un po' di bot no 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 mi sono salvato in extremis ok ora ho anche una nade p nofanta nade grab your girl let's go non si l'arrêté de camper assopra ole un incendiaria parola malattango l'incendiaria facciamo questo è lì è lì è lì nice nice a partita finita partita finita ne iniziamo un'altra e ne iniziamo un'ardra ma una mappa vale l'altra facciamo votare loro allora intanto ho muto questi qui perché porca puttana ok queste non penso di sentirli ma vabbè mappa lake ok ho capito la mappa è bellina questa mappa mi piace cazzo po' io sono con questi quindi blocca blocca blocco 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 blocchiamo anche questi che magari li sento ok sono con la k la k c'ha il primo colpo che è micidiale poi droppa un po' però il primo colpo è micidiale eh l'ho visto però non riesco da lì ok l'ha ucciso il mio compagno ah sono già tutti morti che bilanciamento ragazzi che bilanciamento ma c'è solo un bot di là vabbè 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 tagliaci la testa so che è lì da inchinati la precisione migliora parecchio quindi per quello che mi inchino non so perché poi non ho il crosshair, ah ok vedete come diventa più preciso il crosshair, intanto c'è un tipo di là ok ma due contro, no, due contro tre ok you're dead, asshole minchia c'avevo 5 di vita ok ci siamo P90 un problema sorgerà quando avrò lo shotgun che è un'arma che odio proprio ok ora arriva da qui questo vaffanculo non l'ho preso nemmeno con un colpo no, non l'ho preso nemmeno con un colpo ah Aaaaaaah Ah, facciamo che No Vaffanculo 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 allora speriamo di riuscire a ok sono passati di là pensiamo nella merda perché loro adesso vaffanculo dovevo farmi indietro e camperare dovevo farmi indietro e camperare perché questo non va a difendere cazzo è anche livello 10 dovrebbe conoscere bomb has been planted meno uno dai ryan o'connor ryan o'connor 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 move it campereggio campereggiamo io direi di sì io direi di sì rimasto solo uno è morto adesso sicuro is that now l'impia qua sta che se viene una gomma pusho qua che se viene una gomma non è una gomma è un po' di sì è un po' di sì L'ho visto, casa sopra. L'ho visto, l'ho visto nella finestra, però mi sono bloccato, non ce l'ho fatto. Questa. Che poi defiede. Questa è con mano. Pensavo di essere l'ultimo rimasto. Di gol, oh yeah. Granata anche. No. Uno è qua. Beccati sto headshot. In movimento. Ora c'ho l'arma di marda. Questa devo campionare per forte perché non ce la faria fare un cazzo. Da lontano è... È very 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 hard. Ancora lontano. Ancora lontano. Puttana eva. Puttana eva. disarma, disarma. No, 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 no. Bella. Bella così. Ah, la partita è già finita. E niente, ok. Ok. E finiamo così il video che è parecchio lungo, 25 minuti, poi magari ne faremo un altro. E ci becchiamo al prossimo video. Un saluto a tutti da GP Games. Vai là.